Buongiorno ragazzi di Cangitali, siamo qua ancora a parlare di Formula 1, ho voluto fare questo video perché secondo me ci sono stati degli spostamenti a livello di prestazioni in Formula 1, quello che ha fatto Mercedes non si era mai visto, è la prima volta che un team cambia tantissimo nella propria monoposto tra i test e la prima gara. Per chi non si ricorda, per chi non sapesse, ho già affrontato il discorso delle monoposto di Formula 1 del nuovo regolamento, nel video che vi metto qui sopra, avevo già detto nel video che Ferrari e Red Bull avevano intrapreso una strada molto simile, pance larghe, una discesa molto omogenea del cofano per generare carico, e Mercedes era stata l'unica a fare una scelta completamente opposta. Per quello che si lucifrava nei test, Mercedes aveva una macchina molto molto efficiente nelle curve lente, pochissimo efficiente nelle curve veloci, o comunque quando serve poco carico, quindi ad alta velocità. Avesse una macchina che generasse tantissimo drag, generasse tantissimi problemi, soprattutto nei curvoni dove serviva molta trazione, tipo l'ultimo curvo di Barcellona e tipo la pista del Barino. Ora andremo a vedere cosa ha fatto Mercedes, perché Mercedes ha fatto qualcosa di veramente assurdo, nel giro di pochissimo tempo, ha cercato di, secondo me, di correggere il problema che ha il telaio, però non possono riprogettare la monoposto da zero, soprattutto se dovessero veramente riprogettare la monoposto si trovano con un problema, una macchina che ha mesi e mesi di sviluppo, ha buttato in accesso, quindi hanno cercato di correggere la macchina come possibile, nella parte più importante quest'anno, che è appunto la zona del cofano e del fondo. Prima di cominciare vi ricordo che comunque siamo attivi su Instagram e su YouTube, potete seguirmi, potete farmi qualsiasi domanda e analizzare qualsiasi cosa. Questo è un video che avevo già fatto e mi avevate chiesto voi, se volete che faccio video di questo tipo, con componenti tecnici, cercando di spiegarli nella maniera più semplice possibile, basta scrivermi su Instagram o su YouTube e io vi rispondo e farò video ancora su Formula 1, MotoGP o comunque sul mondo motore. Ma approntiamo un attimino la problematica successa alla Mercedes, andando a rivedere quella che è la macchina che rappresenta i testi in spagna. Come abbiamo detto già in passato, la Mercedes ha sempre avuto queste pance molto rastremate, uno dei pochi team a fare le pance così strette e rastremate, forse l'unico, di sicuro l'unico dei top 3 team, perché Red Bull e Ferrari hanno fatto le pance molto più larghe. E aveva quindi questo scivolo qua, molto omogeneo, un'apertura frontale abbastanza importante, non come Ferrari Red Bull, però abbastanza importante, e tutto il cofono chiuso, perché generavano carico sia dentro il cofono, quindi in uscita tra i gas di scarico esterni, che sotto il cofono, che è in questa zona. Facendo vedere un'altra immagine simile, vi faccio vedere la fiancata della, se riesco ad aprirlo, la fiancata della macchina, questa era la fiancata Mercedes vista in spagna, quindi come vi ho detto, un'apertura anteriore del redatore abbastanza importante, una discesa omogenea che si è sempre vista su quasi tutte le Mercedes del passato, o almeno le Mercedes di Formula 1, e qua comunque una buona base di carico dinamico, comunque niente di stupefacente o strano. Questa tipologia di sistema consente di avere un grande carico nel curvo e lente, e quindi la macchina va veramente forte nel curvo e lente, però di contro genera poco carico all'alta velocità, addirittura genera del drag. Per chi non sapesse cos'è il drag, il drag è quando la macchina fa molta resistenza all'aria, ma questa resistenza all'aria non si traduce in carico aerodinamico, perché giustamente la macchina deve resistere all'avanzamento, quindi deve generare carico con i suoi elettroni, con il fondo, e roba varia, però se io non riesco a generare carico, o comunque il carico genera molto poco rispetto alla resistenza che faccio con la vettura nell'avanzamento, mi crea un problema. E Mercedes ha cercato di risolvere questo problema perché si è accorto che probabilmente nelle curve veloci ha difficoltà, e ha stravolto completamente la vettura. Vi faccio vedere la macchina che ha portato Mercedes, vedete che differenza di cofano? Allora, questa è quella che abbiamo visto a Barcellona, come vedete, parliamo qui della discesina di scarico di pancia abbastanza larga, e una discesa abbastanza omogenea per generare flusso in questa zona qua. Ok, abbastanza omogenea che scendeva, molto classico Mercedes. Accordatevi di questo problema stravolto completamente, questo è il cofano. Guardate come ha cercato di rastremare tutta la zona del cofano alla ricerca di carico ad alte velocità, alla ricerca di un flusso per cercare di stabilizzare il flusso in questa zona, sia in questa zona, ma anche qua. Ha cercato di generare carico, tutta in questa zona qua, tutta questa zona qua, ha cercato di generare del carico, ha cercato di stringere il più possibile le pance per generare carico. E sono comparse delle alette che io avevo già menzionato nel precedente video, Ferrari arriva già, Mercedes copiando Ferrari le ha replicate, sia sopra che sotto. Ok, comunque queste alette generano carico. Generano carico ad alte velocità, perché comunque è una storia molto ridotta, che però col flusso del relatore che entra nel relatore e esce fuori dalle panci generano carico. Quindi servono comunque e aiutano a generare carico ad alte velocità. Ma andando ancora più nello specifico, volevo farvi vedere la pancia Mercedes. Guardate come hanno rastremato questa zona. Guardate come sono venuti molto più in su, molto più stretto, creando questa specie di mezza luna. Cercando di avvicinare molto la pancia dei radiatori, stessa cosa che hanno fatto qua, stessa cosa che hanno fatto qua e anche qua. Quindi hanno cercato di rastremare tantissimo la vettura per avere più superficie. Quindi, poi si è visto anche questa modifica, giustamente, alla vettura per generare comunque ancora carico. Perché tu rastremi tutta questa superficie? Perché tu cerchi di ottenere più superficie? Perché probabilmente, come si vocifera, ad alte velocità ha un problema. Non ha carico. Ma per farvi vedere una visione ancora più incredibile di quello che ha fatto, questa è una macchina da tramanti. Guardate questa zona qua. Questa è la presa del relatore, è ancora molto più piccola rispetto a prima. Ma guardate come ha cercato di fare carico qua sopra, in questa zona, così. Ma carico anche da qua. Adesso qua davanti c'è la ruota, però di dietro la ruota, qua così, per fare questo carico. Questi sono tutti flussi che si generano ad alte velocità per generare carico. Quindi la macchina potrebbe avere effettivamente un problema. Perché? Perché hanno rastremato? Perché i Ferrari Red Bull hanno fatto una superficie molto larga, molto ingombrante, per avere carico. Mercedes non l'ha fatto. Quindi si è trovata senza carico. Quindi l'unica cosa che poteva fare era fare in modo di dare più superficie. E quindi di smussare di più la vettura, di avere più superficie per poter avere carico ordinario. E quindi caricare maggiormente la vettura. Infatti le appendici che vedete qua, questi appendici qua, sono state indirizzate per avere carico. Quindi è dato più sponda, diciamo, più superficie per avere più carico. Quindi effettivamente potrebbe essere vero che la Mercedes ha un problema a livello di telaio. Potrebbe essere vero che la Mercedes soffre le curve di dolci. Lo sapremo tra qualche giorno. Di solito si riesce ad avere un valore effettivo il sabato. Quindi quando alla fine delle prove ufficiali si vedrà se effettivamente il telaio della Mercedes non è all'avanguardia. Il fatto però è che i principali concorrenti abbiano fatto una scelta completamente opposta, vicina tra di loro. Seppur macchine profondamente diverse, hanno comunque cercato di andare a ricavare carico negli stessi punti. Se Ferrari e Red Bull hanno cercato di ricavare carico negli stessi punti, probabilmente hanno scelto una strada o hanno valutato che la stava migliore. Il responsabile dell'Asse, l'aerodinamico dell'Asse, ha detto che loro avevano sperimentato inizialmente le pancie strette per poi scegliere le pancie larghe come Red Bull e Ferrari perché le pancie strette generavano troppi problemi ad alte velocità. E potrebbe essere quello che ha fatto Mercedes. Poi Mercedes si è sempre stupito, però non è normale che un team tra i test e la prima gara cambi così tanto una parte così importante come il cofano perché comprende tutta la parte posteriore della vettura. E il cofano modifica i flussi fino all'estrattore posteriore e fino alla posteriore, che è una delle più importanti. Quindi secondo me effettivamente c'è un problema, lo valuteremo solo a sabato. Io vedrò le qualifiche di sabato e vi saprò dare un'idea di quello che è la problematica principale di questa vettura, se effettivamente c'è una problematica. E poi andremo ad analizzare gli eventi dei problemi. Però di sicuro non è idoneo che un team come Mercedes, che non ha mai fatto il grande stravolgimento di telaio tra una gara e l'altra, lo faccia tra un test e una gara. Quindi probabilmente effettivamente dei problemi ci sono. Detto questo vi saluto, ci vediamo alla prossima. Fatemi sapere nei commenti di cosa ne pensate. e buona prima gara della stagione.